I terrificanti segreti di Nikola Tesla sui numeri 3, 6 e 9. Dietro questi tre numeri, considerati da molti numeri sacri, si nasconde un potere straordinario. Nikola Tesla è stato uno dei più talentuosi inventori e scienziati del suo tempo. Si ritiene che il genio serbo-americano avesse scoperto dei segreti di un valore inestimabile. In questo video scoprirete come l'ossessione di Tesla per i numeri 3, 6 e 9 racconta un significato più profondo e misterioso. Consigliamo di guardare il video fino alla fine per ottenere una comprensione migliore. Nikola Tesla era noto per aver usato questi numeri in tutti gli aspetti del suo lavoro e dei suoi esperimenti. Tesla ha cercato di svelare un significato più profondo dietro questi numeri. Lui credeva fortemente che essi rappresentassero le costanti fondamentali dell'universo e che attraverso la loro manipolazione si sarebbero scoperti i segreti dell'universo. Tesla ha condotto numerosi esperimenti per capire meglio i tre numeri. Ha usato il 3, 6, 9 nei suoi esperimenti. Gli ha usati per il calcolo della velocità nelle sue equazioni e nei suoi progetti di sistemi elettrici a corrente alternata e di trasmissione radio. Molti si sono chiesti, ma la sua ossessione per questi numeri era solo una strana mania o era qualcosa di più? Oggi sappiamo che l'universo è composto da energia e vibrazioni, un concetto in cui lo stesso Tesla credeva molto e ci credeva ben prima che tutti gli altri scienziati fossero d'accordo. Lui disse «Se vuoi scoprire i segreti dell'universo, pensa in termini di energia, frequenze e vibrazioni». Dato che i numeri 3, 6 e 9 sono i numeri principali che compongono la sequenza di Fibonacci, il sistema matematico che descrive i modelli di creazione presenti in natura, Tesla era consapevole del potere di questi numeri e credeva che attraverso essi si potessero avere degli effetti sull'energia e sulle vibrazioni. A proposito di vibrazioni, la fisica quantistica afferma che tutte le vibrazioni attraggono energie simili. Per questo gli esperti di metafisica affermano quindi che è importante essere consapevoli del tipo di vibrazioni che noi stessi inviamo nel mondo. Quando riusciamo a mantenere una vibrazione coerente all'interno di noi stessi, possiamo attrarre nella nostra vita una quantità maggiore di ciò che desideriamo. Le vibrazioni positive che generiamo dentro di noi attraggono esperienze positive, al contrario le vibrazioni negative che creiamo attireranno esperienze negative. Pertanto, se siamo consapevoli della nostra vibrazione e facciamo del nostro meglio per rimanere positivi e in allineamento con il nostro sé più elevato, possiamo attrarre più esperienze che desideriamo. È stato teorizzato che la comprensione dei tre numeri da parte di Tesla avrebbe potuto aiutarlo a creare nuove fonti di energia, come l'energia di punto zero, ovvero l'energia che esiste tra le particelle. Questa potrebbe essere stata la chiave per lo sviluppo dell'energia libera, un concetto che ancora oggi viene esplorato dagli scienziati. Qualunque cosa fosse, è un dato di fatto. Tesla era profondamente incuriosito ed affascinato da questi numeri. Se arrivassimo mai a sapere con certezza cosa Tesla intendesse su questi tre numeri, le conseguenze di ciò potrebbero andare oltre la semplice scienza e portare a una maggiore comprensione dell'universo e del regno spirituale. Il mondo è una vasta distesa piena di misteri e domande senza risposta. Ciò può confondere anche il più astuto singolo. Nikola Tesla. Una volta lui dichiarò che i numeri 3, 6 e 9 fossero come tenere premuto il tasto per sbloccare i segreti dell'intero universo. Questa frase suscitò la curiosità di molte persone. Perché ha detto questa frase intrigante e come può aiutarti? Tesla condusse una vita normale e morì con una morte normale. Ma il suo intelletto era letteralmente superiore. È stato ossessionato dai numeri 3, 6 e 9 per tutta la vita. All'età di 19 anni Nikola Tesla si iscrisse all'università per studiare ingegneria elettrica presso il Politecnico di Graz e non ci volle molto per lui a brillare. Era considerato uno studente brillante. Tesla è diventato il padre dell'elettricità e ogni volta che accendiamo un interruttore della luce deve ringraziare anche Tesla per questo. Oltre alla sua brillantezza Tesla aveva degli insoliti tratti di personalità. Questi tratti lo hanno reso un soggetto affascinante per storici e scienziati. Nikola Tesla era un forte sostenitore del potere di credere in se stessi e credeva che la mente non avesse rivali. Era profondamente affascinato dal numero 3 e credeva che avessi un ruolo significativo per la chiave dell'universo. Le osservazioni di Tesla sul significato dei numeri 3, 6 e 9 hanno ispirato altri ad esplorare e studiare. Alcuni hanno suggerito che 3, 6 e 9 rappresentassero il mondo non fisico di energia che compone il pensiero e la coscienza mentre altri affermano che invece questi tre numeri rappresentano il mondo fisico. Il fascino di Tesla con il numero 3 è resteso anche nelle sue abitudini personali. Ad esempio, era solito camminare intorno alla porta tre volte prima di entrare in un edificio e usava 18 tovaglioli per lavare i piatti perché 18 è un numero divisibile per 3, 6 e 9. Anche se Tesla aveva una predilezione speciale per il numero 3 non era il solo nel riconoscere l'importanza dei numeri. Nel corso della storia i numeri hanno influenzato vari aspetti della vita umana come la religione, la cultura e lo stile di vita. Ad esempio, la filosofia cinese ha tre pilastri confucianesimo, taoismo e buddismo. Il cristianesimo è seguito da circa un terzo della popolazione mondiale. La religione ha il concetto di trinità che spiega la relazione tra tre entità come una completa. Nella Bibbia Gesù, per esempio, ha resuscitato tre persone dai morti e ha predetto che Pietro lo avrebbe rinnegato tre volte. Da qualche anno sta spopolando una tecnica di manifestazione il metodo Tesla 3, 6, 9. Il metodo prevede di concentrarsi su ciò che si vuole e visualizzarlo accadere per tre volte al giorno sei giorni a settimana per nove settimane. Si sostiene che la pratica abbia portato successo a chi l'ha utilizzata correttamente. La manifestazione avviene quando si immagina e si desidera che qualcosa accada. Che si tratti di trovare la tua anima gemella o ottenere un lavoro specifico. Per manifestare ciò che vuoi è necessario creare un'affermazione specifica che si concentra esattamente su quello che vuoi attirare. La manifestazione può sembrare un concetto misterioso ma in realtà è basato sull'idea che il 90% delle nostre azioni provengono dal subconscio. Per attingere a questa energia è necessario credere che quello che vuoi sia possibile e che si otterrà. Ecco dove entra in gioco il metodo Tesla 369. La tecnica può aiutare a radicare le tue intenzioni e azioni. È più probabile che riconoscerete le opportunità e agirete verso i vostri obiettivi più facilmente. Tecniche come la 369 di Tesla possono essere un potente strumento per raggiungere i tuoi obiettivi concentrando la tua mente su ciò che vuoi e agendo deliberatamente su di esso così da poter ottenere risultati positivi. Ricordate anche di mantenere un atteggiamento positivo e credere che i tuoi desideri siano possibili. Grazie di cuore per la visione. Dopo otto giorni di lavoro il video è stato pubblicato. Se ti è piaciuto e se vuoi lascia un like ed iscriviti al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.